Quindi una cena bellissima di pesce sotto le stelle, dove si potrà godere in prima fila degli spettacoli degli artisti internazionali. Vedremo in scena venerdì Leni Zacatek, voice originale appunto degli Alan Parsons Project, come superstar il batterista Stuart Elliot, quindi una prima nazionale perché sarà il primo di un tour internazionale qui in Italia a Disco Diva. Mentre il sabato andrà in scena la voce mitica di Alan Sorrenti che tutti conosciamo, quindi legato alla disco italiana nazionale, e la nostra Christine Wish Eye che abbiamo già visto nell'edizione precedente di Disco Diva, che però si esibirà live con una serie di medley dei più grandi successi delle donne della disco.